Attenzione, attenzione, sua maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di stato presentate da sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di stato, sua eccellenza il cavaliere, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Operai e piccoli indiegati, lo Stato che uscirà da questo immane travaglio sarà il vostro e come tale lo difenderete contro chiunque sogni e ritorni impossibili. La nostra volontà, il nostro coraggio, la nostra fede, vi daranno l'Italia il suo volto, il suo avvenire, le sue possibilità di vita e il suo posto nel mondo. Più che una strada, penso che deve essere per voi tutti una suprema certezza. Viva l'Italia, vive il partito fascista repubblicano!